Ma che simpatica pubblico! Me la porto tutti a casa, facciando la famiglia più grande. Ecco, adesso mi fermo e inizio a pensare cosa devo fare nella mia vita. E, 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 ma quando è bella la pazza? Ah, queste sono quelle che stanno a... Ci hanno risultato. E, e, ma quando è bella la pazza? E, ma che simpatica pubblico! Befana brutta, guarda là, guarda, guarda, tutto scorso. Oh, 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 guarda com'è bella sta cappuccino, va! Com'è bella la Befana! Fai il cappuccio, fa vedere il cappuccio dove sta! Me lo apite, eh? Com'è bella la befana! Aspetta, ma ci fanno una foto! Grazie! 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 Da notte arrivano regali! Grazie! 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 Grazie!